La nuova collezione Tesamance di Ikea mira a portare colori vividi e dinamici all'interno delle abitazioni, con accessori funzionali e versatili. La collezione, frutto di un connubio con il duo di designer Raw Color, si contraddistingue per l'abbondante uso di tinte brillanti per dare nuova vita a ogni ambiente domestico. Oltre a una vasta gamma di mobili, la collezione Tesamance comprende una serie di articoli per la tavola e per la decorazione dell'abitazione, come lampade, biancheria da letto e vassoi colorati. Dal carrellino contenitore funzionale e colorato agli accessori per la tavola, la nuova collezione Tesamance di Ikea cerca di rispondere a tutte le esigenze domestiche in modo vivace e con uno stile fresco e dinamico.